Grazie a tutti. E' stata una squadra organizzata che ci ha chiuso bene gli spazi, è ripartita molto bene, ci ha creato un po' di difficoltà come è giusto che sia perché è un'ottima squadra. E' normale poi l'errore più grande è quello della gestione sbagliata del secondo tempo. Abbiamo abbassato i ritmi e questo non va bene, abbiamo sbagliato troppi passaggi, poi negli ultimi 20 metri potremmo essere più incisivi e non l'abbiamo fatto. Quello che mi fa arrabbiare è anche il gol preso, è stata troppa superficialità però è stato un errore tecnico che ci può stare, però l'importante è anche il risultato. È stato un risultato importante contro una squadra forte. Intanto due giornate, sei punti, nove gol fatti. Importante sono sei punti. I gol fatti sì, sono contento, sono contento perché c'è un lavoro dietro ma poi i gol sono fatti poi da una mole di giochi importante dove tutti i giocatori si sentono importanti, non solo quei giocatori che sono davanti. Sì, perché a parte la tripletta di Doss, Doss per fare gol è stato servito da altri giocatori che hanno lavorato per lui e hanno lavorato bene per lui.